buongiorno amici nexus lab sono alessandro e vi presento la nostra video recensione dell'htc one max il primo phablet dell'azienda taiwanese potete vedere qua di seguito la scatola un primo phablet che prende praticamente il concetto dell'htc one classico e lo trasporta in un corpo da 5.9 pollici di display un vero mostro di grandezza scopriamo se anche di potenza c'è qualcosa di esclusivo in questo one max ma alla fine l'anima rimane quella dell'htc one normale allora scatola ormai classica di htc piatta e molto larga andiamo ad aprirlo ok lo smartphone l'abbiamo già tolto abbiamo la pellicola la cover in la cover protettiva per il posteriore già inclusa nella confessione il cavetto usb micro usb solito ricco batterie da viaggio molto piccolino e cuffie molto buone ottima qualità con questi cappucci rossi molto carini molto ben fatti che presentano l'ingresso in ear che in qualche modo aiuta a sentire meglio il suono ma può dare fastidio per lunghi periodi io come sapete non sono un gran fan dell'in ear dopo qualche minuto mi danno particolarmente fastidio andiamo a scoprire il one max che avevo già tolto come vi ho indicato come potete vedere difficilmente stanca nell'inquadratura pur avendo tutto lo zoom auto della videocamera è veramente enorme display da 5.9 pollici parte da qua e va a finire qua giù abbiamo veramente una altezza quasi da record per un phablet ben 164 millimetri virgola 5 delle dimensioni allucinanti larga larghezza non da meno abbiamo 82 virgola 5 millimetri per 10 virgola 29 millimetri di spessore un peso anche questo da record siamo circa sui 220 grammi un phablet che si fa sentire portarlo in giro equivale quasi a portare un tablet e in effetti da questo punto di vista htc poteva fare notevolmente meglio ha voluto mantenere alcuni materiali di pregio ma ovviamente ha inficiato tantissimo sulla trasportabilità di questo dispositivo e anche sulla sua usabilità usarlo per diversi minuti con una sola mano a parte che è quasi impossibile arrivare anche solo in metà del display ma poi risulta anche faticoso se non si mantiene la mano appoggiata su un piano quindi da questo punto di vista un po da rivedere andiamo adesso a vedere il design design meno curato del one normale abbiamo le solite due griglie con altoparlanti boom sound sugli estremi del dispositivo griglie che potete vedere nella parte alta nascondono anche la capsula auricolare mentre a fianco troviamo la fotocamera frontale il led di stato il sensore di prossimità sotto invece troviamo solo il microfono oltre l'altoparlante sotto c'è il connettore micro usb a sinistra troviamo questa piccola come potete vedere più da vicino il pulsante a scatto per togliere la cover posteriore ve lo mostro tra poco a destra abbiamo il tasto volume il bilanciere del volume e il tasto di accensione o spegnimento o blocco in alto il jack da 3,5 e la porta infrarossi che serve per comandare anche le tv un po più vecchie magari non connesse alla rete wifi di casa abbiamo anche i tasti soft touch sotto il display che occupano una grande una grande almeno un centimetro e mezzo di altezza del dispositivo centimetro e mezzo che forse utilizzando i tasti normali oppure quelli dinamici all'interno del display come in htc forse come sarà nell'htc one 2 avrebbero risparmiato un po' di altezza non troviamo più la cromatura del molto bella del one sostituita da questo materiale policarbonato plastica rigida comunque ben fatto troviamo invece quella cromatura quella piccola cromatura su questi dettagli sull'anteriore è molto meno rifinito comunque soprattutto a livello di design notiamo delle differenze nella parte posteriore dove abbiamo questo enorme sensore per le impronte digitali enorme perché oltre che dover leggere le nostre impronte ha una tecnologia che funziona tramite trascinamento la vedremo tra un po' i pin metallici per gli accessori vari doc eccetera il sensore ultra pixel di htc e il flash led oltre un microfono piccolissimo per la soppressione dei rumori allora qua abbiamo una struttura prettamente in metallo ma passando solo da questa zona metallica questa noteremo una differenza già solo al tatto questo perché perché secondo noi almeno secondo me htc per rendere la cover posteriore rimovibile tramite questo tasto a scorrimento ha dovuto in qualche modo avviare sui materiali cover infatti posteriore che non sembra neanche essere di metallo non la piego giusto per non rovinarlo ma sarebbe assolutamente facile da piegare e rovinare in questo device troviamo l'aggiunta della micro SD abbiamo la memoria diminuita interna da 16 gb però con la micro SD avviamo questo problema inoltre abbiamo la sim micro sim inseribile sempre all'interno scelta curiosa di htc quella comunque di mantenere la batteria non rimovibile una precisa scelta non sappiamo se a livello commerciale o di design gli abbia si sia riuscito meglio creare il dispositivo in questa maniera allora vado a toccare uno dei punti forse peggiori di questo htc one max ovvero la struttura ancora di questa cover posteriore che per bloccarla potrà sembrare facile ma invece molte volte ci risulta essere come potete vedere mobile il blocco di questa cover posteriore abbiamo cercato anche sui forum eccetera per avere riscontri è molto complesso ovvero i ganci nelle parti estreme molte volte non rientrano come potete vedere non siamo noi che non riusciamo a chiuderlo ma è proprio il meccanismo che non è tra i migliori in circolazione e probabilmente htc avrebbe a questo punto fatto prima a lasciare due slot per la micro SD e per la micro sim intanto non c'è la batteria sostituibile lasciando una cover di qualità superiore questa scelta è assolutamente opinabile e htc dovrà migliorare in questo senso andiamo a sbloccare lo smartphone che avevo già acceso allora questa è la sense 5.5 sblocco verso l'alto eravamo già all'interno di all'interno del drawer andiamo subito a vedere che versione di android e della sense abbiamo impostazioni informazioni informazioni software abbiamo la versione di android 4.3 htc ha garantito che entro pochi mesi speriamo entro marzo arrivi android kitkat versione htc senza la 5.5 anche la sense 6 dovrebbe arrivare senza problemi su questo phablet allora questo è il classico menu di htc con la sense 5.5 troviamo solo un menu aggiuntivo che mi preme analizzare con voi la scansione dell'impronta digitale ho tolto la mia in memoria la mia impronta digitale andiamo a memorizzarla ancora una volta con voi come se fosse per la prima volta lui ci suggerisce che dito utilizzare noi usiamo l'indice indice scorrere il dito per registrare l'impronta ancora tre volte ogni volta lui vibrerà appena abbiamo fatto la scansione mentre ci sono vi faccio vedere una cosa assolutamente non furba di questo telefono il sensore ha questa tecnologia che funziona a scorrimento del dito che senso ha quindi mettere questo sensore a parte il senso di design subito sotto la fotocamera infatti la maggior parte delle volte uno è tentato di fare lo swish col dito direttamente sul vetro del sensore cosa che andrà a sporcare se non rovinare alla lunga questo vetro quindi assolutamente senza senso questa scelta di design cosa possiamo fare adesso che abbiamo impostato la nostra impronta digitale possiamo impostare il blocco schermo tramite questa impronta oppure quando andremo a sbloccare con l'impronta digitale il dispositivo potremo direttamente aprire un'applicazione cosa comoda un po' limitata certamente HTC avrebbe potuto pensare qualche altro modo per poter utilizzare questo sensore che sembra messo lì forse più a livello di marketing che a livello di usabilità certo è comodo per blocco schermo impronta digitale adesso lui ci richiede di rifare la prova la facciamo un po' più veloci con voi ok e vi faccio vedere come funziona lui chiede anche una password di sicurezza mettiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1 2 3 4 scusate faccio questa cosa con voi così vi mostro come funziona mettiamo una password un minimo complessa ora ora blocchiamo il phablet lo sblocchiamo e lui ci chiede l'impronta digitale e noi con questo gesto dovremmo in teoria sbloccare il telefono come potete vedere non è mai molto preciso pur avendo usato questo dito e facendo lo stesso gesto che avete visto voi ora si è sbloccato diciamo che un 25% delle volte siamo costretti a mettere la password cosa che ne limita ancora di più l'utilizzo inoltre se uno lo tiene con una sola mano o lo tiene comunque nella parte bassa arrivare al sensore delle impronte digitali è comunque ci vuole una lunga corsa quindi anche qua diciamo un aspetto che è da rivedere magari con un futuro HTC One Max 2 speriamo in una tecnologia del sensore delle impronte digitali magari in questo caso si prendere spunto dall'iPhone 5S che da quel punto di vista funziona molto meglio per il resto cosa abbiamo chi conosce la Sense 5.5 non troverà grandi sorprese abbiamo Blickfield qua a sinistra con la possibilità di inserire categorie inserire contenuti da vedere nel nostro stream in continuo aggiornamento Blickfield che può essere anche disattivato con un semplice gesto tenendo premuto un qualsiasi dito sulla home page abbiamo torniamo un attimino andiamo un attimo poi a scoprire le altre opzioni possiamo aggiungere diversi widget widget navigabili in verticale ne troviamo già alcuni preinstallati come Twitter inoltre troviamo la possibilità di aggiungere le schermate alla Sense 5.5 altro aspetto che mi è piaciuto un po' poco display enorme uno dei più grandi della categoria non puoi mettere solo 4 applicazioni per riga è veramente uno spreco di pollici si potrebbero raggruppare queste applicazioni a parte con le cartelle raggruppare in maniera molto più semplice e sfruttare molto di più il display una scelta che dimostra come la Sense 5.5 non sia stata adattata per questo smartphone ma è solo stata portata direttamente per il resto comunque ci troviamo di fronte a un device con un display eccezionale veramente uno dei migliori che abbia mai visto un full hd da 5.9 pollici neri molto neri come potete vedere era una foto zoe e colori anche molto vivi molto dettaglio veramente fa HTC ha inserito su questo dispositivo un display che mantiene le qualità del vecchio One non troviamo invece la stessa qualità nella parte fotografica la parte fotografica che voglio parlarvene un po' prima dato che il sensore ultrapixel da 4 megapixel è una scommessa che ancora non riesce a vincere HTC abbiamo fatto una prova fotografica per questo vi invito a guardare la recensione iscritta dove si vede che in alcune situazioni cattura più luce questo sensore questo è un esempio questa è una situazione piuttosto buia come potete vedere c'è un bel po' di luce mentre ci sono altre situazioni però dove si vede che il dettaglio è veramente al minimo dettaglio che ormai siamo abituati anche in sensori ad avere sensori da 13 16 megapixel inizia a essere un po' poco inoltre qua luce scarsa abbiamo dei difetti di messa a fuoco messa a fuoco che a volte non è il massimo al contrario la Sense 5.5 secondo me è il software forse migliore dal punto di vista della gestione fotografica sia dal punto di vista dell'interfaccia semplice qua abbiamo i filtri con Zoe attivato naturalmente non possiamo usarli filtri che possono essere inseriti direttamente durante la nostra prova ok abbiamo Zoe non so se avete visto quella modalità che ci consente di catturare subito dopo di una foto in modo da creare gallerie animate e poi abbiamo diverse altri tipi di scena Zoe notte HDR panorama ampio stabilizzazione tantissime veramente tante possibilità video se passiamo al video il video si può passare direttamente con il tasto possiamo fare foto durante il video adesso vi chiudo un secondo possiamo anche attivare la cattura doppia cattura doppia che ci consente ciao a tutti che ci consente di fare doppia foto o doppio video che dire una impostazione veramente ben fatta purtroppo il sensore non gli da giustizia e speriamo che con la nuova generazione 2014 o i sensori ultrapixel sono migliorati oppure c'è stato un'inversione di marcia con i vecchi tra virgolette sensori classici tastiera tastiera eccezionale impossibile scrivere con una mano sola ma con due mani veramente ok adesso ho fatto un piccolo errore ma vi assicuro che è assolutamente velocissima inoltre la gestione del testo con la sense chi ce l'ha avuta lo sa è veramente ben fatta è possibile inoltre noi abbiamo attivato le frecce sotto o la tastiera per avere anche una precisione maggiore in testi particolarmente lunghi non è neanche impossibile editare e magari scrivere un articolo con questo one a parte la comodità del suo peso che dopo un po' si fa sentire dialer dialer che è solito da sense 5.5 uno tra i migliori anche in questo caso abbiamo la ricerca tablet e trasterino numerico funziona benissimo abbiamo i preferiti i contatti purtroppo non abbiamo abbiamo risettato il telefono da poco i contatti navigabili sia per lettera sia per ricerca che tramite la solita barra e i gruppi gruppi che noi usiamo abbastanza poco chiamate chiamate recenti qua vediamo chi ci ha chiamato da poco poi abbiamo tutti i widget della sense personalizzati e presenti qua non sto a farvi un'altra disamina dato che l'HTC One è un esempio da questo punto di vista cosa altro dire andiamo a vedere cosa riesce a riprodurre questo HTC andiamo sulla galleria galleria qua abbiamo tutta la nostra galleria voglio vedere ok come potete vedere zoe attivo quindi abbiamo le gallerie zoe che ci consentono di vedere alcuni aspetti ok qua invece abbiamo le foto per posizione ok andiamo a scoprire dove ho salvato i video allora prima di andare ai video però volevo commentare con voi la parte audio la parte audio che direte sarà rimasta uguale alla qualità che abbiamo avuto sull'HTC One no purtroppo anche questa è un po' diminuita sia dal capsule auricolare abbiamo un audio un po' meno pulito e un po' più robotico mentre dalle caps dalle altoparlanti stereo boom sound posto uno nella parte alta uno nella parte bassa abbiamo purtroppo una qualità che è diminuita diminuita sensibilmente anche qua non è tanto a livello di potenza ma a livello proprio di qualità dell'audio di completezza tra alti e bassi andiamo a sentire così potete sentire voi stessi allora l'audio non è sicuramente scadente anzi però HTC ha in questo aspetto uno dei suoi cavali di battaglia purtroppo tale aspetto ci ha un po' delusi ci aspettavamo molto ma molto di più da questo punto di vista andiamo a vedere cosa riesce a leggere un normale AVI in la puntata precedente presto sopravvivere ok gli AVI senza problemi come avete potuto vedere andiamo a vedere un HD ready peggie 16 possiamo tra l'altro catturare anche foto del nostro video vi faccio vedere un attimo le opzioni possiamo anche catturare una foto o anche mandare il il video in streaming magari sulla tv tramite Miracast allora poi guardiamo il video in full HD come per finire le nostre prove mp4 in mp4 allora qua più del video mi interessa l'effetto audio che ha questo film ha questo suono molto profondo che sul One faceva quasi impressione per la qualità qua siamo su una qualità medio alta ma come vi dicevo questa è diminuita rispetto alle aspettative ok, browser web browser web è assolutamente tra i migliori c'è Chrome anche preinstallato andiamo su Nexus Lab nexus-lab.com ok richiediamo, come potete vedere possiamo attivare anche il flash player ok, carichiamo il browser di HTC è tra i migliori sia a livello di fluidità e di pinch to zoom infatti ha un pinch to zoom veramente fantastico è fluidissimo pur avendo questo HTC One Max un hardware più limitato rispetto al One normale però ha la capacità di impostare il testo direttamente come incolonnarlo in maniera perfetta rispetto alla nostra vista come potete vedere incolonnato benissimo bastano due secondi lo poniamo da questo lato anche in questo caso incolonnato stra bene quindi assolutamente perfetto come lavoro anche a livello di navigazione andiamo su Yahoo ci troviamo a livelli altissimi fluidissimo adesso questa è una pagina come potete vedere molto ricca con elementi anche dinamici però come potete vedere qua fa un po' di confusione però il suo lavoro lo fa assolutamente bene andiamo ad impostare il pinch to zoom tramite il doppio tap anche qua il testo viene ridefinito in un attimo veramente eccezionale da questo punto di vista forse è il migliore smartphone sfrutta benissimo i 5.9 pollici assolutamente perfetto applicazioni preinstallate vabbè non fate caso alle team questo è un brand team ma non ha assolutamente valore questa considerazione abbiamo a livello di strumenti la classica dotazione registrazione vocale la torcia la calcolatrice la configurazione guidata e le applicazioni HTC a cui va inserito un account dashboard genitori ci aiuta a impostare una sezione limitata del telefono in modo che magari il nostro figlio più piccolo non faccia danni vi assicuro io un bambino piccolo è utilissima altrimenti vi chiama chiunque naviga chiunque vi compra qualsiasi cosa flash player setting lo troviamo preinstallato sul sistema modalità bambino accessibile attraverso questa icona tv tv praticamente questo programma è compatibile con qualsiasi tv ci sia in commercio funziona estremamente bene disegno a mano libera purtroppo un phablet siamo abituati al not senza pennino certo è comunque carino ma il pennino dà quel valore aggiunto anche di precisione troviamo sia il social network preinstallati applicazioni multimediali abbiamo la radio fm e tune in radio preinstallato il resto è tutto abbastanza comune che dire abbiamo fatto la disamina piuttosto completa questo one max forse è uscito un anno in anticipo sono sincero HTC poteva aspettare fare meglio soprattutto a livello di ergonomia pesantezza materiali e gestione proprio dell'interfaccia cioè HTC ha fatto un one enorme senza considerare l'aumento di grandezza proporzionato al peso e non facendo quasi niente per l'interfaccia cioè senza creare contenuti interessanti per l'utente finale quindi un phablet è anche piuttosto caro ancora sul mercato che è assolutamente di qualità non è un acquisto sbagliato però la concorrenza diretta con il Note 3 si fa sentire tanto quindi pensateci bene per l'acquisto a livello multimediale altissimo livello a livello fotografico un po' meno sensore per la lettura di impronti digitali evitabile è proprio una feature inutile in questo caso sono lapidario per il resto ottime impressioni pur facendo tesoro delle critiche precedenti un saluto da Alessandro per Nexus Lab per l'acquisto per l'acquisto per l'acquisto per l'acquisto di QTSS